Angela Artosini è uno dei volti storici di Uomini e Donne. L'extronista della stagione 2007-2008, la stessa in cui si è fatta conoscere Serena e Nardu, ha recentemente fatto sapere di star lottando duramente contro il cancro, che l'ha colpita nuovamente in ricaduta. La 40enne, nella giornata di oggi 10 giugno 2022, ha dato ai suoi followers contemporaneamente una bella e una brutta notizia. Il carcinoma sembra essere svanito, ma l'Artosini ha perso l'amore. Angela Artosini, da sempre molto riservata, è tornata sotto gli occhi dei riflettori per l'annuncio della sua lotta contro una forma di carcinoma nel febbraio 2022. A distanza di mesi dalle sue tristi e amare parole condivise su Instagram, la 40enne ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni dal sapore dolce amaro. Non so da che parte iniziare, ha esordito. Ieri dopo mesi di attesa con varie operazioni è arrivato il risponso medico e sono di nuovo pulita, ha annunciato l'Artosin. Il brutto male, a quanto pare, sembra essere scomparso dalla sua vita. Purtroppo però, nonostante la bella notizia, non è un momento ideale per l'extronista. Angela ha infatti confermato che tra lei e il padre dei suoi figli, Simone, è finita. Poi c'è il resto, un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato. Non chiedetemi il come, quando è perché in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l'ho voluto io ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l'ennesima volta. La biografia di cui parla la 40enne, ossia la bio di Instagram, riporta queste parole lapidarie, mamma single di Ismi e sante. Non ci sono quindi dubbi sullo status sentimentale dell'extronista. La separazione tra l'artosina e il marito, a quanto riportato dalla diretta interessata, sembra essere davvero dolorosa. Al momento non ci è dato sapere il motivo della rottura tra i due. Ciò che appare chiaro è il fatto che la decisione drastica di dirsi addio sarebbe da attribuire a lui.